A costa vendeva azioni sotto costo. Società di facciata, banche delle Filippine, anche le azzorre del cazzo. Jimilter, scatole cinesi, tutto offshore. Quanto? 164 milioni. Ok, che cosa facciamo? Non ci credo, cazzo. Siamo dell'N.B.I. Non è possibile. Allontanatevi dalle vostre scrivanie, per favore, fate due passi indietro dalle vostre scrivanie. Non toccate niente. Allontanatevi dalle vostre scrivanie. Allontanatevi dalle vostre scrivanie. Allontanatevi dalle vostreするkami. Allontanatevi dalle vostre. Grazie.